ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube all'interno della mia autovettura macchia sportage del 2005 oggi voglio farvi vedere un altro sistema obd che ci permette di fare la diagnosi della nostra macchina e conoscere eventuali problemi il dispositivo è ancora all'interno della sua valigetta quindi adesso facciamo un unboxing finto unboxing lo togliamo dalla valigetta vi faccio vedere il contenuto lo colleghiamo alla macchina ma siccome questo dispositivo anche una funzione demo adesso farò vedere le funzioni principali quindi il collegamento eccetera e tutto il resto finalmente ve lo potrò fare vedere con calma con un audio un'illuminazione sicuramente migliore quindi facciamo i passi e poi spostiamoci vediamo innanzitutto come viene venduto quindi come arriverà a casa all'interno di un cartone troviamo questa valigetta rigida fatta bene molto robusta due chiusure una destra e una sinistra e poi ovviamente l'apriamo all'interno troviamo sulla parte bassa il dispositivo questo è il manuale di istruzioni mantenuto fermo con questo sistema strappo da questa parte troviamo invece due sportelli che si aprono ora ovviamente cadrà tutto perché io l'ho già aperto ho sistemato alla meno peggio quindi all'interno che forse riescono a far cadere nulla perfetto quindi all'interno troviamo il cablaggio ovviamente tutte le bustine per l'umidità insomma tutto quello che serve per collegarlo quindi togliamo il dispositivo da questa sua postazione e ve lo faccio vedere direttamente allora grande display dei tasti fisici ovviamente display anche touch si accende semplicemente premendo questo tastino adesso resta in by ma se fosse stato spento avrei dovuto mantenerlo premuto per un paio di secondi e questa è la schermata principale che ci permette di svolgere diverse funzioni quindi diagnosi o bd quindi per vedere in tempo reale un po tutto il comportamento la possibilità di azzerare insomma tantissime funzioni dunque cavo per il collegamento vediamo come si fa come vedete abbiamo due misure differenti inseriamo il collegamento più piccolo in questa presa in questo modo si avvita colleghiamo anche da quest'altra parte a questo punto sono pronti per utilizzarlo ok a questo punto quindi colleghiamo la presa o bd all'ingresso nella nostra macchina noterete un particolare innanzitutto andrà direttamente sotto carica quindi mentre lo utilizziamo in automatico si ricarica e poi inizierà in automatico la ricerca del numero di telaio alcune vetture supportano altre invece no questa funzione quindi sta già facendo la ricerca la mia macchina purtroppo è un po vecchiotta del 2005 e quindi questo dispositivo non riesce a trovare il telaio ma su altre vetture riesce senza alcun problema quindi da questa parte abbiamo anche come vedete il livello di carica della batteria che sta crescendo quindi è sotto carica attendiamo che faccia questa vana ricerca del telaio ok e quindi e quindi diciamo salta a questo punto abbiamo la possibilità di utilizzarlo semplicemente come un normalissimo dispositivo per poter fare la diagnosi poter utilizzare le funzioni obd a zerare eccetera eccetera allora accendiamo il motore vediamo come si comporta perché vi ricordo che questi dispositivi vanno utilizzati con il motore acceso ok motore avviato possiamo fare diverse cose come vi ho detto poco fa possiamo per esempio fare una diagnosi della nostra macchina abbiamo diverse funzioni quindi la funzione del tempo che vi farò vedere più tardi oppure possiamo scegliere direttamente chi a confermare attendiamo comunicazione vedrete che è molto veloce rispetto a tanti altri dispositivi che vi ho fatto vedere mi chiede il tipo di presa scusatemi ma sto facendo una ripresa un pochettino azzardata e approfitto del fatto che questo dispositivo abbia una sorta di piedistallo nella parte posteriore per posizionarlo nel modo corretto e farvi vedere tutto per bene questa è una grande comodità quindi a questo punto continuiamo 16 pin collegamento qualche scena la metterò ovviamente accelerata anche se devo dire che effettivamente è molto reattivo e veloce quindi selezione manuale ricerca automatica facciamo ricerca automatica vediamo cosa riesce a trovare perché su altre vetture questi dispositivi funzionano bene con la mia macchina invece no abbiamo la possibilità di utilizzare i tastini fisici oppure direttamente sul nostro display generico la mia dovrebbe essere sportage km quindi diamo ok ok allora come vedete ha trovato un sacco di errori effettivamente ci sono dei problemi della mia macchina non tutti questi in tutto ciò è dovuto al fatto che come vedete ci sono dei cavi insomma ho fatto un impianto tutto smontato quindi non funziona praticamente nulla compresa l'aria condizionata e qua mi rileva infatti degli errori pure riguardanti l'aria condizionata eccetera quindi questo comunque quello che riesce a fare nel caso in cui ci siano dei problemi vengono rilevati subito e riportati dal dispositivo in modo da conoscerli abbiamo la possibilità anche di creare del report in quindi in questo caso come vedete abbiamo il modello anno marca chilometri eccetera eccetera potrebbe anche rilevare tutto in automatico però in questo caso con la mia macchina non viene salvato e questo può essere poi riportato su un computer stampato dato dell'eventuale cliente eccetera questo per quanto riguarda la diagnosi una diagnosi veloce se invece noi vogliamo utilizzarla con l'obb di due quindi vedere in tempo reale vari parametri della nostra macchina possiamo selezionare obb di due e vedere i vari comportamenti per esempio i giri del motore eccetera eccetera questo serve per controllare tenere sotto controllo il comportamento della nostra macchina e anche in quel caso eventualmente rilevare delle anomalie quindi sta facendo tutti i controlli per tutti i protocolli compatibili a questo punto ha completato diamo ok possiamo vedere i dati dal vivo guardiamo per esempio i dati dal vivo per quanto riguarda il giri del motore è poco altro quindi se ne siamo appunto giro motore controlliamo le temperature per esempio temperatura aria aspirata temperatura refrigerante tanto solo per fare degli esempi confermiamo ok e come vedete abbiamo i giri del motore che aumentano man mano che io accelero li possiamo vedere sia giri del motore che le varie temperature comunque tutto ciò che noi abbiamo selezionato sia in questo modo che tramite un grafico che ci permette con questa sorta di tracciato di vedere i comportamenti vedete io accelero decelero e si creano questi picchi abbiamo anche in questo caso poi la possibilità di creare del report eccetera questo punto andiamo a vedere direttamente tutto il resto che ci permette di fare questo dispositivo intanto questo voltaggio della batteria quindi abbiamo anche la possibilità di vedere la batteria come vedete io ora ho degenerato quindi va scendendo se io accelero ci sono delle piccole risalite quindi abbiamo anche la possibilità di monitorare la batteria questi riguardano invece gli azzeramenti nel caso in cui ci siano degli errori che voi conoscete e che non volete segnalati che non siano però ovviamente degli errori che possono compromettere la sicurezza del veicolo per voi e per gli altri allora in quel caso potreste eventualmente anche disattivarli per esempio l'avviso del tagliando quindi il service abbiamo anche la funzione immobilizer che va utilizzato per le officine insomma per chiunque abbia bisogno di utilizzare la macchina senza l'immobilizer quindi tutte le varie funzioni c'è anche questo alcune funzioni non le conosco ovviamente però come vedete sono degli azzeramenti che ci permettono di cancellare alcuni errori ed eccoci trasferiti quindi in interno apriamo di nuovo la valigetta e continuiamo a parlare del nostro prodotto il modello innanzitutto è il crp 909 e il suo prezzo è 459 euro quindi un dispositivo professionale su amazon comunque è presente la possibilità di applicare uno sconto di 40 euro ma spero di ottenere anche un ulteriore codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa in più eventualmente cliccate comunque su applica lo sconto per risparmiare 40 euro dal prezzo che vedete su amazon togliamo il tutto riprendiamo il dispositivo fra le mani ma voglio farvi vedere un altro particolare allora la nostra valigetta si può trasformare anche in un sistema per riparare il dispositivo qualora dovessimo utilizzarlo per esempio al sole quindi possiamo posizionarlo in questo modo possiamo continuare a vedere il nostro display se siamo in esterno eccetera il suo scopo non è questo però funge comunque bene per questa situazione allora guardiamo il dispositivo anche esteticamente guardiamolo tutto attorno come vedete abbiamo questa gomma che lo rende molto più robusto quasi raggede dei tasti fisici gommati che ci permettono pure di utilizzarlo nel caso in cui usiamo dei guanti quindi abbiamo difficoltà col taccio oppure nel caso in cui abbiamo le mani sporche lavorando sul motore e non vogliamo sporcare il nostro display nella parte alta abbiamo le connessioni il tasto di accensione nella parte posteriore invece abbiamo questo sistema che ci permette di posizionarlo con diverse angolazioni perché è duro quindi anche posizionato in modalità intermedia comunque lo manterrà ben fisso nella sua posizione degli altoparlanti fra le varie funzioni che ci offre ci permette anche tramite le impostazioni di gestire alcune caratteristiche per esempio unità di misura se metri oppure imperiale la possibilità di catturare lo schermo quindi creare degli screenshot e quindi salvare eventualmente alcune immagini qualcosa che ci possono servire e che rileviamo durante le varietà di agnosi regolare la luminosità quindi anche il suono e poi connetterci alla rete wifi tra le altre cose possiamo anche impostare il fuso orario la lingua eccetera eccetera la cosa che eventualmente potrebbe essere utile sarebbe nel caso in cui sia un'officina impostare tutti i dati riguardanti l'officina che verrebbero poi riportati nel report come vedete da questa parte abbiamo una voce data di scadenza perché ha un abbonamento che scade però vi lascerò tutti i link nel primo commento nella descrizione sia per vedere il dispositivo che per poter vedere i vari prezzi tutti i vari pacchetti cosa acquistare eccetera eccetera quindi torniamo nella pagina principale abbiamo visto poco fa il collegamento adesso vi faccio vedere la funzione demo quindi andiamo su diagnosi da questa parte abbiamo demo e abbiamo la possibilità di utilizzarlo come se fosse effettivamente collegato ad una macchina quindi abbiamo la possibilità di fare un test veloce come abbiamo visto poco fa quindi nel caso in cui rilevi dei guasti come ho fatto con la mia macchina avrebbero riportati sia il nome che eventualmente il tipo di guasto ci fa vedere ovviamente tutti i vari dispositivi tutto ciò che va trovando abbiamo all'interno della nostra macchina e alla fine di questa diagnosi come vedete abbiamo la possibilità di creare un report di vedere innanzitutto l'anteprima di ciò che non va bene quindi torniamo indietro abbiamo anche ricerca sistemi in questo caso sta vedendo quali sistemi sono a bordo della nostra autovettura quindi questa è sempre una simulazione come vedete antifurto airbag torniamo ancora indietro scelta del sistema in questo caso ci chiede cosa vogliamo controllare motore trasmissione in questo caso selezionato dei valori quindi la temperatura aria aspirata la tensione della batteria e livello olio motore mi dà una conferma dell'olio del motore va bene la temperatura sempre simulata di 82 gradi e poi la tensione della batteria quindi come vedete ha tantissime funzioni andando su azzeramento come vi ho fatto vedere poco fa abbiamo tutte queste funzioni facciamo per esempio reset service per l'olio cliccando sopra ci dà anche una nota in cui si dice il software viene utilizzato per la funzione di azzeramento manutenzione dopo la corretta manutenzione deve essere azzerato il chilometraggio percorso o il tempo di viaggio lo spegnimento della spia avvia un nuovo ciclo di manutenzione conferma torniamo indietro vediamo qualche altra voce per esempio spurgo abs il software viene utilizzato per lo scuro spurgo abs quando l'impianto abs contiene aria è necessario spurgare il sistema frenante tramite la funzione di spurgo abs per ripristinare la corretta pressione dell'impianto quindi ci dà anche una descrizione di tutto ciò che fanno le varie voci e quindi nel caso in cui si abbiano dei dubbi comunque abbiamo questa informazione in più nella cartella dati invece abbiamo salvato sia il report eventuali immagini che abbiamo salvato il ripristino del sistema eccetera report diagnosi abbiamo il demo è quello della mia macchina che vi ho fatto vedere poco fa quindi abbiamo la possibilità di mantenerlo salvato nel nostro dispositivo oppure condividerlo insomma stamparlo e qua possiamo inserire il tipo di codice che abbiamo rilevato e dando ok avremo la possibilità di vedere di che tipo di errore si tratta quindi specificando per esempio mettiamo caso vediamo cosa esce fuori nessun dato perché sto facendo comunque delle cose casuali ecco in questo caso ho fatto a casaccio e mi è uscito sensore sensore tensione pacco batteria disponibile dal circuito basso quindi tutti i tipi di errore che vengono rilevati e possiamo controllare di cosa si tratta tramite questo sistema diamo anche un'occhiata al manuale di istruzioni nel quale sono descritte le cose che vi ho già detto ma guardiamo le caratteristiche tecniche allora abbiamo un display touchscreen da 7 pollici 2 giga di ram una rom da 16 giga nella quale salvare tutti i dati il report eccetera può essere ricaricato in diversi modi adesso vi farò vedere a una batteria da ben 6.000 milliam per ora quindi un'ottima durata per quanto riguarda l'abbonamento la durata è di due anni le dimensioni sono 24 centimetri e mezzo per quasi 14 cm per 34 mm di spessore può lavorare in temperature comprese fra 0 e 50 gradi e può essere conservato tra meno 20 e più 70 gradi guardiamo quindi le varie connessioni che vi ho fatto vedere anche poco fa come vedete abbiamo questo cavo che va collegato alla presa obd della nostra autovettura vi ricordo che ogni autovettura la presa posizionata nei punti differenti una dall'altra questo invece va collegato al dispositivo come vedete abbiamo anche quest'altro cavetto questa presa per poterlo ricaricare possiamo utilizzare questo spinotto nel caso in cui non siamo vicini alla nostra autovettura o comunque non lo stiamo utilizzando perché come avete visto durante la fase di utilizzo si ricarica automaticamente ma può essere necessario poi utilizzarlo nella nostra officina per mostrare ai clienti vari report per consultare quello che è stato rilevato e quindi è possibile ricaricarla tramite questo caricabatterie semplicemente collegandolo in questo modo e poi inserendolo qua come si fa con un normale smartphone vengono date però in dotazione eventualmente anche altre prese per altri paesi quindi è possibile sostituirlo oppure si può utilizzare questo caricabatterie che però effettivamente una presa che per noi non va bene comunque si ricarica automaticamente durante l'utilizzo con questi sistemi penso che siano già più che sufficienti ragazzi mi ha fatto conoscere tantissimi dispositivi tutti che hanno funzionato bene questo mi piace e mi piace in tutto perché effettivamente sembra un dispositivo molto reattivo che ha tantissime funzioni soprattutto quello di cancellare gli errori o di rilevare appunto i guasti come tutti i sistemi obd ottima la funzione per poter salvare eventuali report da stampare eccetera eccetera spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia vi sia stato utile per conoscere questo dispositivo e vedere tutte le sue funzioni e se vi piace eventualmente quindi potete acquistarlo detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccate anche sul link nel primo commento nella descrizione per dare un'occhiata al prodotto cliccate sul pollicione all'insù per mettere il mi piace a questo video cliccate sulla campanella per attivare notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto